Nei miei cinque anni di mandato sono stati piantumati 4.748 alberi a fronte di 2.471 abbattuti a causa delle precarie condizioni fitosanitarie e vegetative che pregiudicano la pubblica incolumità. Apre così la conferenza sul bilancio del patrimonio arboreo il sindaco Carlo Masci. Da questi dati risulta che cosa? Che in questa città in cinque anni abbiamo piantato più 2.277 alberi, abbiamo 2.031.000 metri quadrati di verde, abbiamo investito 8.500.000 di euro nel verde cittadino. Ho fatto un confronto con il passato e in passato, nei cinque anni precedenti, il bilancio arboreo era più 50 alberi rispetto a più 2.277 di oggi. L'investimento sul verde era pari a 3.500.000 rispetto agli 8.500.000 di oggi. Per quanto riguarda le aree verdi c'erano 1.970.000 metri quadrati e oggi ce ne sono 2.031.000 metri quadrati. Basta polemica insomma, almeno non prima della verifica puntuale dei numeri che sono consultabili sul sito del comune che offrono chiarimenti ai cittadini. Abbiamo lavorato molto sul verde perché ci teniamo molto a una città verde, a una città green, a una città che sposa la transizione ecologica. Certo, abbiamo sentito molte polemiche perché ogni volta che abbiamo dovuto per legge tagliare un albero perché era pericoloso o perché era morto, tutti quelli che erano contro di noi si sono scatenati, però poi non hanno detto quello che succedeva concretamente. Quello che succedeva concretamente oggi è su carta, si trova nel sito del comune, tutti lo possono vedere e credo che il bilancio sia non soltanto positivo ma nettamente positivo perché negli anni precedenti non c'è mai stato un bilancio arboreo così favorevole come quello che abbiamo creato noi nei cinque anni in cui abbiamo amministrato.